Cari amici, oggi vedremo un'interessantissima intervista al professor Meluzzi pubblicata da imolaoggi.it. In questa intervista il professore dà una sua visione geopolitica e tocca diversi aspetti, parla della globalizzazione, del controllo operato dalle elite finanziarie, dei flussi migratori ed ha una sua visione di un futuro, di una società, di un mondo che è governato dalle elite. Come sempre il professor Meluzzi usa uno stile molto diretto e talvolta anche colorito. Purtroppo a causa delle nuove regole di YouTube non è più possibile toccare certi argomenti, ormai basta anche una sola parola sbagliata in un intero video per consentire a YouTube di rimuovere il video e di segnalare il canale. Dopo tre segnalazioni il canale viene chiuso. Purtroppo a InformalTV hanno già rimosso nove video ed ha già due, due belle segnalazioni, quindi alla prossima il canale verrà chiuso. Non che cambierebbe molto perché di fatto come molti di voi sanno YouTube di fatto ha chiuso già InformalTV censurando completamente e oscurando la visibilità dei miei video da mesi. Un canale che ha più di 40.000 iscritti ma non supera le mille o duemila visualizzazioni a video. Quindi chi desidera seguire questa interessantissima intervista al professor Meluzzi dovrà farlo, potrà farlo esclusivamente sul sito di InformalTV, Informal con la L finale, www.informaltv.it. E questo è solo il primo di una lunga serie di video che potrò pubblicare esclusivamente sul sito di InformalTV perché nel mondo di oggi, nell'Italia di oggi, delle società private possono scavalcare le leggi e la Costituzione e decidere chi ha diritto di parola, chi ha diritto ad esprimere le proprie idee e chi invece non ha questo diritto. E il sottoscritto Matteo De Micheli e il mio canale InformalTV per i social non hanno questo diritto. Invito quindi tutti ad iscriversi non soltanto al sito di InformalTV ma soprattutto alla newsletter. Compilate il modulo sul sito ed iscrivetevi alla newsletter. In questo modo resterete informati sull'uscita dei nuovi video. Quindi chi desidera seguire l'intervista al professor Meluzzi può farlo seguendo il link che trovate sia nella descrizione di questo video che come commento in evidenza. Grazie a tutti.